Ed ecco a voi i migliori gruppi di questa trentaseiesima esposizione internazionale, Alaskan Malamute, American Staffordshire Terrier, Spinone Italiano Ruano Marrone, West Corgi Pembroke, Carlene, E questo è tutto per i gruppi di allevamento, come farà con suetudine vi spiego cosa andrà a scegliere il nostro giudice, il nostro giudice valuterà sempre nel rispetto dello standard di razza, e spero che da questo momento in poi prima di acquistare un cane di razza decidiate sempre di studiarvi bene lo standard di razza, perché sto cercando di sottolineare quanto sia importante, valuterà se nel gruppo presentato, che per regolamento è costituito da tre a cinque soggetti appartenenti a entrambi i sessi, esiste un tratto distintivo in grado di contraddistinguere quelli che sono i soggetti allevati dallo stesso allevatore. Spinone Italiano Ruano Marrone, Werf Corgi Pembroke, Invito tutti i migliori cuccioloni a presentarsi nel pre-ring, grazie. Terzo posto, American Staffordshire Terrier, Secondo posto, Spinone Italiano Ruano Marrone, e il winner è Carlini, un grande applauso agli altri splendidi soggetti. Indietro con l'iPhone, Indietro con l'iPhone, XI il primo va bene, il primo va bene, il primo è lì dietro, noi non sono Việt uno ascoltare, l'ipro, li potrało mettere lì su, bene, Stella, tutti, guardate, va bene, va bene. Grazie a tutti per il Gostitù. Grazie a tutti